Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare, bindare e configurare questo ricevitore EACIN QX908. Lo collegheremo a un flat controller SP Racing F3 Brushed. Questo ricevitore è compatibile con la radio FRSKY e ci mette a disposizione 8 canali. Trasmette il segnale tramite SBUS oppure tramite PPM, noi lo andremo a configurare con l'SBUS. Insieme al ricevitore ci arrivano 3 cavetti in silicone, una guaina termorestringente e del pad B adesivo. La prima cosa da fare sarà collegare i 3 fili al ricevitore, mettere la guaina termorestringente e collegarlo al flat controller. Dopo aver prestagnato sia il ricevitore che i fili andiamo a collegarli. Ecco saldati i fili, in particolare per usare l'SBUS li abbiamo saldati in questo modo. Col pulsante di bind verso l'alto, come qui, abbiamo collegato il cavo segnale dell'SBUS nel primo pin in alto, i 5V nel secondo pin in alto e la terra nel terzo pin in alto. Adesso non ci rimane che mettere la guaina termorestringente. Prima di mettere il termorestringente dobbiamo assicurarci che la switch di sopra sia tutta a destra mentre la switch di sotto sia tutta a sinistra. In questo modo confermeremo al ricevitore di utilizzare il protocollo SBUS. Una volta messa la guaina termorestringente possiamo collegare il ricevitore al flat controller. Adesso che abbiamo collegato il ricevitore al flat controller possiamo effettuare le operazioni di bind. Clicchiamo il menu e andiamo nella pagina 2. Una volta che siamo nella pagina 2 giriamo la rotella fino ad arrivare a MOD. Quando siamo arrivati a MOD dobbiamo selezionare D8 quindi andiamo su BND che significa BIND e clicchiamo ENTER. Sentiremo questo suono. adesso teniamo premuto il tasto BIND del ricevitore. Poi colleghiamo la batteria e rilasciamo il tasto BIND. Adesso scolleghiamo la batteria e clicchiamo ENTER sul radiocomando. Adesso il ricevitore è bindato quindi non ci rimane altro che collegare la batteria. Come vedete la luce del ricevitore è verde e significa che il ricevitore è correttamente bindato. Adesso non ci rimane altro che effettuare la configurazione su Betaflight. Adesso colleghiamo il flat controller al PC e clicchiamo su CONNETTI. la prima cosa da fare è andare in PORTS e attivare il ricevitore seriale. Visto che io ho collegato il ricevitore nella porta UART2 qui attiveremo SERIAL RX. Poi SAVE REBOOT. Adesso andiamo in configurazione. qui facciamo in modo che ci sia BRUSHED se il nostro micro è un micro BRUSHED. Scendiamo giù fino ad arrivare al ricevitore. Qui dobbiamo mettere SERIAL BUSED RECEIVER e fare in modo che SBUS sia presente in questa finestrella qua. Quindi SAVE REBOOT. Andiamo nel tab del ricevitore e proviamo il nostro radio comando. STROTTLE, LOIA, ROLL, PITCH e SWITCH. Bene è configurato. Adesso torniamo su e andiamo nel tab failsafe e attiviamo il failsafe, visto che questo ricevitore è compatibile con il failsafe. Lo attiviamo e andiamo in SAVE REBOOT. adesso abbiamo fatto tutte le configurazioni relative al ricevitore e al CIN UX908. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. grazie a tutti. Grazie a tutti